Perché noi siamo i bulli e comandiamo noi nella zona contaminata, i bulli, i bulli, ma come cavolo vi è venuto Bethesda? Cioè qui i classici panchettoni pazzi in stile Kenshiro si chiamano i bulli E qua poi mi viene anche un altro dubbio perché ormai è una febbre che dilaga in tutti i videogiochi Perché su Days Gone gli zombie si chiamano i furiosi? Perché gli infetti? Gli infetti vabbè ci può pure stare, ma i furiosi? Comunque non c'entra nulla, però così volevo dirlo, volevo uscire questo mio problema che avevo con questo gioco Allora, Rage 2, a parte volevo ringraziare Bethesda che mi ha mandato qualche gaggettino Finalmente anch'io potrò avere un piccolo ripiano con tutti gli oggetti dei videogiochi Come tutti gli youtuber, quindi grazie mille a Bethesda che è un pochetto l'unica che mi guarda e mi supporta Grazie mille, ma si stanno a panna agli occhi Comunque questo gioco sembra come se Pete Hines e Todd Edwards abbiano giocato a Just Cause E abbiano detto, oh cazzo, voglio che il prossimo Rage sia fatto anche da loro Infatti hanno chiamato Appalachia, Avalance Studios In collaborazione con ID Software che era la creatrice di Rage 1 Creatore di capolavori come Doom E infatti sembra un mix proprio tra i combattimenti in stile Doom in un'ambientazione in stile Mad Max Con le capacità di movimento e di esplorazione alla Just Cause Dove però, detto così, sembra, oh ma so che mix è capolavoro, già così Però un pochetto quelle meccaniche io sinceramente non apprezzo Infatti non è che mi ha fatto troppo piacere vederle inserite snatura un pochetto il solito Rage Perché è bello, sì, è adatto alla cosa di DISTRUZIONE Spacca tutto, che è assolutamente adattissima al concetto di Apocalisse e Rage Però, dopo un po' che distruggi tutto, vabbè, è sempre il solito distruggi tutto Qui diciamo che andrà a distruggere, quindi le missioni secondarie non sono troppo divertenti Mentre la storia principale è molto figa, corposa I combattimenti, regà, lo shooting è qualcosa di pazzesco Cioè, c'è questa abilità Dash Che ti permette di schizzare a destra e a sinistra di montere trasporto E poi splatter, sangue, teste che mozzate Prinalina allo stato puro, regà, dovremmo scappare da orde di mutanti C'è un'abilità che si chiama Overdrive che ci permetterà di muoverci più velocemente degli altri personaggi E quindi potremo mirare meglio e ucciderli in stile Max Payne Non so se ve lo ricordate Molto anche questa è un'altra cosa che rende il combattimento ancora più figo La cosa bella è che tutte queste abilità poi si possono combinare insieme Per creare degli attacchi ancora più forti Un'altra cosa ancora più bella è che per prendere tutte queste abilità Dovremmo viaggiare nella mappa e cercare tutte le arche nascoste e dislocate nel corso del gioco Per chi ha giocato all'1 si ricorderà l'arca perché quando iniziavamo il gioco uscivamo proprio da questa arca Mentre qui l'inizio è diverso Ne parleremo più avanti perché prima vi voglio un attimo far capire Per chi non ha giocato l'1 un pochetto l'ambientazione di questo gioco Infatti il primo reggi iniziava proprio come un classico Fallout Noi uscivamo da quest'arca sotterranea in una landa desolata post-apocalittica Dove tutto era distrutto Ma a differenza di Fallout qui era stato tutto completamente distrutto da un asteroide E questo asteroide si chiamava Pophis E uno dice vabbè è un asteroide, ti pare poco, basta questo No, era un asteroide ripieno di un portatore di mutazioni genetiche Praticamente noi quando poi siamo usciti anni dopo abbiamo trovato il mondo completamente infettato Con tutto quello che c'era di vivo trasformato in mutazioni gigantesche Bestioni alti anche ai 20 metri La cosa più bella è che l'autorità Che sarebbe quello che ora crede di essere il governo La cosa migliore che gli è venuta in mente di fare è prendere sti mutanti giganti Corazzarli e piazzarli in testa a una specie di casco laser E praticamente questa è la trama del 2 Il 2 inizierà dove noi verremo attaccati dall'autorità che distruggerà la nostra città E noi ci ritroveremo in mezzo vedendo questo Power Ranger, Texas Ranger Come cavolo si chiama, Super Ranger che combatte contro questo mostro alieno e muore malissimo E' poverino Però noi a quel punto prendiamo la sua armatura e nessuno si arrabbia però Perché questa è un'armatura coattissima di un Super Ranger L'abbiamo rubata però per fortuna siamo parenti di un capo qui La cara vecchia zia Brauli Una cosa molto italiana, i soliti raccomandati Dai e tutti, ce la fanno tenere E non solo, siamo anche forti Quindi ci affidano altre missioni Alla fine muoiono tutti e siamo gli ultimi Ranger Cioè non si sa la fortuna Da che eravamo gli ultimi arrivati In tipo 3 minuti diventiamo i più fighi della zona contaminata Ovviamente la storia principale sarà legata alla vendetta della cara zia Brauli E dovremo uccidere sto robottone infame capo dell'autorità Comunque raga, cazzato a parte, cercherò di fare una recensione sensata per una volta Rage 2, un open world single player post apocalittico in prima persona E diciamo che in questo open world non rischieremo di annoiarci Perché gli eventi saranno tanti e saranno molto violenti e adrenalinici Soprattutto avremo a disposizione delle armi pazzesche che ricordano Half-Life Cioè un livello di divertimento portato da la scelta di armi non convenzionali Proprio a livelli estremi Cioè c'è un'arma che possiamo praticamente alterare la gravità E quindi colpire un nemico e dirgli La gravità invece di portare verso il pavimento Punta verso quel palo alto 20 metri lì giù E tutto questo può creare una quantità di kill diverse di un comico che non avete idea raga Cioè l'ambientazione porta a situazioni veramente comiche Il bello è questo Su Twitch ci siamo divertiti in una maniera assurda In altarini comici fra NPC Come momenti gore splatter Anche disturbanti in alcuni casi Cosa cazzo sto vedendo? Ma cos'è questo posto? Eh giuro ho fatto... Ho fatto feste simili comunque La mappa di gioco è immensa Anche se ho letto molti articoli di giornali in questi giorni Che parlavano del fatto che poi non era così grossa Ma secondo me non l'hanno girata a piedi Perché in macchina è molto distante ogni punto Ma soprattutto se tu lo facessi a piedi ci metteresti mesi Per percorrere quel territorio Quindi se calcoliamo la mappa come un open world classico Come se lo dovessimo rapportare a uno Skyrim È mastodontica Ma non temete perché anche se è un territorio post-apocalittico Non mancherà la possibilità di incontrare nemici E anche fazioni in conflitto addirittura Perché ci sono tantissime fazioni Tra i sudari, i mutanti, i cinghiali, i bulli Di sicuro qua l'unica cosa negativa probabilmente è l'adattamento in italiano O la scelta dei nomi Però comunque sicuro non vi sentirete soli Oltre questo come vi avevo già parlato prima Un'altra cosa molto interessante è l'avanzamento di livello Perché per apprendere nuove abilità e trovare nuove armi Dovremmo trovare queste arche disperse per la mappa E un po' ricorda Skyrim Quando dovevi andare alla ricerca degli urli del drago Dei To'Hum E tutto questo ti porta ad esplorare la mappa A parlare con i personaggi per trovare informazioni sulle arche Ma oltretutto anche per salire di livello Dovremmo finire le missioni secondarie Perché l'avanzamento di livello è strettamente collegato Ai personaggi secondari Che ci affideranno delle missioni E dopo che noi ne concluderemo abbastanza Sbloccheremo dei nuovi livelli di progetti Ogni personaggio ci farà prendere abilità diverse Chi più per il crafting Chi più per trovare oggetti nella mappa E chi più per il combattimento Oltre questo potremo prendere abilità Tipo per qualunque oggetto nel gioco Un altro po' potremo prendere un calatappi con lanciamissili Potremo modificare le abilità delle armi Le abilità delle armature Tutte le armature Tutte le abilità che abbiamo preso nelle arche La macchina potremo modificarla Prendere i lanciamissili Si può fare di tutto Uno degli eventi più pazzeschi del gioco Sono questi convogli Che si spostano da una parte all'altra Della mappa E noi potremo intercettare e distruggere Per prendere punti per migliorare la macchina Tutto questo Il bello è che Questi convogli sono sempre più forti Se noi non distruggiamo i tanti insediamenti Di predoni O dei sudari Dovremo distruggere più insediamenti possibili Per diminuire gli attacchi E per diminuire anche La quantità Di questi convogli Che seminano distruzione Proprio in stile Mad Max Più il film Che il gioco Tipo identico Un effetto assurdo Vedere questi convogli Che si spostano Quando siete a piedi E li vedete passare E' un effetto ragazzi Pazzesco C'è anche un semplicissimo Menu di crafting Dove potremo fare Gli oggetti base Come il wing stick Che tutti noi abbiamo amato In Rage 1 E diciamo La modalità è anche Molto simile Proprio a Rage 1 Come la fabbricazione Del wing stick Che ci permetterà Di decapitare i nemici Potremo fare molto facilmente Un wing stick Oppure un kit medico Dovremo comprare Nelle città I progetti Per poterli craftare Infatti ci saranno Molte città Che potremo visitare E rivedremo anche Wellspring Di Rage 1 Apprezzato molto Il design Anche delle città In stile cyberpunk Con questi neon Ricorda anche Un pochetto Borderland Per svariate scelte Comico grottesche Dei programmatori Che sono stati Molto simpatici Un'altra cosa Bellissima Sono i panorami Ci ritroveremo A guardare Mondi Posti completamente diversi Tra ambientazioni Desertiche Giungle Un burrone Senza fondo Dove ci divertiremo A lanciarci i nemici E se ci cadremo Non ci sarà via d'uscita Sarà morte certa Ci sarà anche la possibilità Di entrare in un talk show Televisivo Dove dovremo uccidere Mutanti in diretta tv Potremo anche partecipare A delle gare Cioè praticamente Tutta un'altra modalità Dove potremo fare Delle corse Anche qui Come Rage 1 Ma è molto migliorato Comunque il sistema di guida Non è uno dei migliori In assoluto Però è molto meglio Di Rage 1 Si possono fare gare Diciamo è un minigioco Molto divertente Altra cosa top Che sarebbe bellissimo Poter aggiungere Nella realtà E che se vi si sfonda La macchina Vi basterà semplicemente Imprecare lì davanti No? Che ti metti lì col pugno E fai Bess Dannata macchina Si rompe Metti il pugno così E si aggiusta da sola Magnifico Detto questo ragazzi Diciamo che è un gioco Che non ha troppe pretese Non vuole essere un capolavoro Ti vuole semplicemente Far divertire E ci riesce molto bene Detto questo ragazzi Vi ringrazio Per l'attenzione Vi ricordo che siamo su Twitch Ogni volta che carico un video Comunque subito dopo Parto in live su Twitch Quindi mi trovate in diretta Adesso Trovate anche il link In descrizione Ho trovato proprio Quell'arma antigravitazionale Regà Ieri notte Mi sto divertendo un botto A lanciare la gente In giro per la mappa In alto In basso Giù dai dirubi E quindi niente ragazzi Vi aspetto A farci due risate insieme Su Twitch Il link è in descrizione E grazie a tutti Se vi va ragazzi Spolliciate Ci vediamo alla prossima Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli